bell'alto di ragazzi questo nuovo video oggi siamo su telastrofaster sono jack463 ok ora qua perchè c'è un morto la vabbè non l'ho ucciso io però qua abbiamo arrivati che abbiamo il nostro bello fucile che abbiamo preso il fucile bello bello siamo qua mamma mia c'è uno la mamma mia come li uccido come li uccido davvero no no me ne ho sceso mi hanno ucciso mi hanno ucciso da nostri ronzi mi hanno ucciso mi hanno ucciso mi hanno ucciso mi hanno ucciso si stronzi si stronzi guarda nei corridoi però però ok stai attenta Ellie però perché ora stiamo facendo una cosa epichissima proprio le cose epiche fatte nell'epicità epicità l'epicità di quelle epicità 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 no 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 e non è nasciso e perchè guarda a te beh mamma mia però la patata o lo sto andando di là è una cosa che preoccupa tanto perchè ora io aspetta lui come fa a me capire va di qua va di qua va di qua va di qua non fai una stupida c'è lo devi proprio strangolare oh tale ora ora muoio per colpa tua che strangola che strangoli ste patate dai forza si della patata cosa la patata devi muoio oh mio dio lo puoi dire cara oh mio dio oh mamma mia ce l'ho dei kit cosa cosa dietro di me cosa c'è dietro di me non le patate aiuto stai conmi forza dove deve andare lo posso mi potete spiegare dove deve andare fammi capire ma prendiamo questo e andiamo di sotto mi sa tanti pure quello va di là quindi infatti è di là ok vediamo se ci possiamo fare un addentato che ne so un addentato un addentato un addentato dai un addentato sei folle sei folle folle pancia e muore via 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 ok ce l'abbiamo fatta via via oh mamma mia via 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 cavolo ci seguono chi ce l'abbiamo fatta per miracolo pure miracolo di dio miracolo di dio s.pore le s.pore Mamma mia Mamma mia Ci ho spaccato proprio La faccia sapete le banane Quando quelle schiacciate si spracellano Infatti io ho spracellato la testa Le patate si spracellano Aspetta la banana non le patate Mi sono ingeppato un poco C'è acqua C'è acqua C'è acqua E lì l'altra volta ha detto Ecco Troverà una soluzione Troveremo una soluzione Troveremo una soluzione Troveremo una soluzione Dobbiamo trovare una soluzione Vediamo cosa possiamo fare Non tanto pure Direi Sto bene Olè Là c'è una scala Però non credo che la posso prendere No infatti non la posso prendere Bene Vediamo Ma certo che ti lascerò qua Se nemmai che non ti lascio Se nemmai che non ti lascio Ok vediamo cosa c'è qua Vediamo Vediamo Mmm bello bello Si lo so che in questi giorni sto facendo solo te la sto fast però Eh che mi piace Mi è piaciuto tanto sto gioco Però senza che sbatti la faccia va Vai Ok L'ho visto una cosa Che cosa Una tavola serve Si serve Ah ho capito raga cosa dobbiamo fare Allora ora io prendo questa cosa Ci faccio salire Ellie credo Si Dovrebbe essere così Ci facciamo salire Ellie Poi che il rannome è stupido Ellie 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 Poi la cosa bella è Che tutti nei videogiochi di Horror Oppure Oppure Di zombie Le femmine devono avere sempre Dei nomi Strani Tipo Ellie oppure Clementine Di Di The Walking Dead Si nomi strani Quindi Clementine Non è tanto No No Clementine è un po' normale Ma Ellie Non Non tanto Vabbè Ok andiamocene No per offendere Ellie però Andiamocene via 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 Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo, non parlare a nessuno della tua condizione. Pensaranno che sei pazzo, non vorranno ucciderti. Infine tu fai quello che dico quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città. Qualche miglia a nord è di qui. Lì c'è uno che vi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. Ok. Ok, quindi. Qua noi... Ah, ora io posso vedermi. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un commento e ci vediamo alla prossima notte. Bene, ragazzi. E continueremo... È fico! Continueremo alla prossima notte. Bene, ragazzi. E iscrivetevi. E... Ok.